Noi sono troppo guai, sono... Ah, ma no, sono... Due, due, uno... Che è data power! Power, super power! Ma le donne... Lei... E no, eh! E dai, dai! Ragazzi... This is my best filter! ... ... Io sono scioccata! Oggi in mood J-Lo! E hanno anche messo la musica di J-Lo per ispirarsi meglio! Let me introduce you to my party people! Ragazzi... Io ormai... Cioè, qua ho... Cosa sono? Dei fossi! Mamma mia! Comunque il miglior buongiorno di sempre è quello di Mr. Daniel! Cosa servono i principiatori? C'è Mr. Daniel in makeup! Cos'è che hai detto? Ah, dicevo che la base sta venendo così gustosa! Proprio bella! Cosa sarebbe la base gustosa? La gustosa! L'unica base che conosco è riso bianco, riso nero, quinoa! Kinder bueno! Kinder bueno! Vabbè, momento serietà! Cosa stai usando di palette? Sto usando questo! Precisamente questo colore al centro della... Era un po' che non te lo facevo! No, non hai capito! Basta! Comunque ragazzi, Mr. Daniel è un drago! Un drago? Questo è un drago del trucco! Ah! Sembra fresca! Allora ragazzi, makeup finito! Super glow! Glowing bronzing! Contouring! Glowing! E Glowing! 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 E' questo! Ma Instagram mi carica i video sfasati! Io nera! Amici, buongiorno! Allora in questa fashion week dove si corre tanto e siati per il monte.. Mi raccomando! E questo? E' la creazione che ho creato sulla mia girl! Guardate... Amore, mi sono fatto uscire appositamente anch'io per te! Guarda! Amore, favolosa! questo ciuffo così adoro comunque ragazzi ci vorrebbe a parte mi sta dando il make up anche il filtro Paris H24 nella vita ogni giorno cioè io sono scioccata ma che belle fa ragazzi guardate cosa mi ha mandato la Julie la sua limited edition con Maybelline New York col suo mascara preferito personalizzato che carino grazie Julie grazie mille non vedo l'ora di provarli pazzeschi quanto posso amare l'Ale a fare che è giusta la mia American Girl che viene a salvarmi ogni giorno in ogni circostanza allora ragazzi piccola anteprima del mio abito di stasera che riempie tre sedili praticamente una cosa